Inaugurato a Vallinfreda il nuovo centro di formazione provinciale per gli operatori di protezione civile. L'edificio messo a disposizione dal comune è stato ristrutturato grazie a un finanziamento della provincia di Roma di 100.000 euro, un centro inaugurato proprio nell'anno del volontariato che avrà il compito di formare donne e uomini che con il loro contributo aiuteranno a monitorare costantemente le criticità del territorio. All'interno della struttura si svolgeranno corsi di formazione per il personale di enti pubblici ed aziende e corsi integrati di protezione civile per i volontari con attività teoriche e pratiche da svolgere in parte in aula e in parte sul territorio. Per ogni corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e un eventuale riconoscimento di crediti scolastici e professionali per i giovani volontari anche attraverso la formula delle vacanze studio.